Attendiamo la prossima apparizione in scena. Vi dico subito che è un atleta che è capace di sollevare in squat oltre 350 kg. Chi pratica un po' di pesi in palestra ha già capito l'immensità di quanto vi ho appena riferito. Ed eccolo, è entrato in questo momento, stiamo parlando di Branch Warren, soprannominato il quadrosauro. Viene da Tyler in Texas, legge la sua rivista, sta sfogliando una rivista di settore che ovviamente lo ritrae, mentre attende di iniziare la sua routine. Gigioneggia un po' Branch Warren, come mai questo soprannome, il quadrosauro? Per la sua imponenza e la sua densità muscolare straordinaria. Ha delle gambe che hanno qualcosa di sfolgorante, infatti come tu ben vedi è una cosa impressionante in questa gara. Io credo che qui si presenti nella sua miglior forma. Consideriamo che ha fatto ottavo al Mr. Olympio l'anno scorso e qui lo vedo nettamente migliorato. Io prevedo che farò un grande risultato questa gara. Nel bodybuilding gli atleti vengono definiti freak, nel caso in cui siano mostruosi o X-men, invece se la parte più rilevante è la loro proporzione a X, la loro postura a X. Ecco, in questo caso Branch Warren come lo conosco? Senza dubbio più freak, si vede anche lontano un miglio, ha una densità e una rocciosità incredibile. Ecco, vediamo, primo posto all'Europa Super Show e primo posto ai Charlotte Pro Invitational nel 2005. Quindi un palmarès di rilievo per Branch Warren che a questo appuntamento si è, devo dire, si è preparato in maniera assolutamente... Io credo che abbia indovinato tutto, cioè la dieta, l'allenamento, le pose, anzi forse nelle pose no, perché forse nelle pose io lo vedo un po' insicuro e se migliorasse anche nelle pose potrebbe avere ancora più chance per i primissimi posti. Ecco, Leo, come ci si prepara per un evento di questo genere? Voglio dire, un professionista fa una vita molto particolare, lo sappiamo, tutti gli sportivi che si dedicano ore e ore devono seguire chiaramente dei tipi di allenamenti, ma questo è show e sport al tempo stesso, quindi? Ma quindi niente, intanto tantissima palestra, tutti i giorni, sei volte alla settimana a questi livelli, a volte anche due volte al giorno, aerobica, alimentazione super controllata, chiaramente con pochi grassi, pochi carboidrati, tante proteine, vitamine, eccetera, eccetera. E dopo una preparazione anche coreografica non indifferente, non bisogna lasciare nulla... Quando parlavi di aerobica, intendevi esattamente cosa? Aerobica, bicicletta, corsa a piedi... Quindi allenamento aerobico, eccetera. Sì, allenamento aerobico per bruciare il grasso in maniera notevole. Tu considera che comunque gli atleti del genere, quando hanno fatto 10 km, hanno già bruciato che avanza, perché con il peso che si portano dietro... Devono sostenere un peso notevole. Devono sostenere un peso che è di fuori delle leggi della natura.